Spazio ancora per Allan, poi Mertens, da Mertens fa filtrare verso Cagliarone, sottomisura, l'autogol, l'autogol di Wallace, è passato in vantaggio il Napoli, è passato in vantaggio il Napoli al nono del secondo tempo, autogol di Wallace che anticipa Stracoscia, 31 come il numero di maglia di Goulamma e la derica speciale di tutto il Napoli. Autogol di Wallace, rivediamo come si sviluppa l'azione, Mertens, Cagliarone, l'anticipo di Wallace.